Sono partiti da Napoli a bordo di un'utilitaria per mettere a segno colpi in Valtiberina, dove però i militari li hanno sorpresi con un bagagliaio pieno zeppo di profumi, creme medicinali e paste adesive per le dentiere. Un bottino da circa 10.000 euro sottratto dagli scaffali di più supermercati. In manette a Sansepolcro sono finite così quattro persone, tutte senza fissa dimora e di origini straniere. Fondamentale ancora una volta la video sorveglianza urbana con il rilevamento delle targhe che ha consentito di individuare l'auto sospetta ricercandola per diverse ore, fino a quando è stata trovata parcheggiata davanti a un noto centro commerciale di Sansepolcro. All'interno erano presenti due uomini, fermi evidentemente in attesa. L'attenta osservazione dei militari ha poi fatto il resto. Altri due uomini sono usciti dal centro commerciale con un grosso zaino in spalla e una volta arrivati all'auto l'hanno svuotato nel bagagliaio, visibilmente al ricolmo di moltissimi altri prodotti per la Cosmesi, troppi e sospetti per degli acquisti natalizi, da lì sono scattati i controlli. Dalla perquisizione sono saltate fuori decine di prodotti per la cura della persona. I quattro non sono stati in grado di giustificare la presenza della merce né tantomeno di esibire alcun titolo di acquisto. Tutta l'area furtiva è stata così sequestrata, in attesa di ricostruirne la provenienza per la successiva restituzione agli aventi diritto.